Credo che questo sia il degno epilogo di un campionato giocato allo spasimo, se non avessimo avuto degli infortuni avremmo potuto giocarci questi obiettivi, uno l'abbiamo mancato ma preferiamo veramente questo scudetto che ci manca da 5 anni. Di aver giocato con tanti italiani in campo e con una giocatrice di 20 anni come la Vassilieva che stasera ha fatto la differenza, ci hanno detto che lasciavamo andare via le più forti, è andata via la first e abbiamo preso la Nuku e nessuno lo sapeva chi era quasi e hanno scoperto una grande giocatrice. Noi siamo bravi a trovare quelle che costano poco e rendono tanto. L'obiettivo della stagione era difficile in questa situazione ma siamo state bravissime. In questa squadra eravamo 12, mi sono sempre sentita parte del gruppo e per questo ringrazio tutte le mie compagnie anche se magari ho giocato meno, perciò lo sento anche mio questo scudetto. Quest'anno penso sia stato l'anno più bello di tutti, in Piazza sono anche convocati in nazionale quindi meglio di così proprio non poteva andare, sono troppo felice. È stato un anno difficile perché ci sono stati tanti alte e bassi ed è stato il giusto premio per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Sicuramente è stata dura ma noi ci abbiamo messo il cuore come ci abbiamo tatuato sulla nostra spalla. E per tanto di noi è anche il primo scudetto quindi penso che sia una grandissima soddisfazione. Oggi precisamente sono cinque anni che sto in questa società e quindi la maniera più bella per festeggiare è stata quella, di vincerlo scudetto. Grandi le ragazze, ci hanno fatto vivere un sogno e l'abbiamo realizzato, è un anno che le seguiamo e finalmente abbiamo coronato il nostro sogno. Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi.